Allora, ottima giornata, un gol, è abbastanza bello, ti prendiamo una grandissima vittoria, 3 a 0. Senta, un commento tecnico sulla partita, cosa ti aspetti da questo scontro? Allora, prima vittoria, una mappa, ricordo, c'è un'altra scontro, è un'altra scontro, è un'altra scontro, è un'altra scontro, è un'altra scontro. Brava, 2 a 0, allora Mati e Blagio. Brava, prima vittima che... Mati e Blagio, la zinistra, la zinistra. Tante Napoli.